Negli ultimi decenni in particolare si è sviluppata un'intensa attività di critica e di invenzione che ha dato modo di conoscere la quantità e la qualità degli scrittori di aforismi, di cui il messicano Iran Barrios, come autore, editore e curatore di testi, è stato interprete e promotore fondamentale. E' anche per questo che i suoi aforismi hanno un'alta e profonda connotazione critica, sia diretta sia metaforica. Non a caso, pertanto, buona parte dei suoi testi sono costituiti da aforismi sugli aforismi, aforismi che perciò riflettono sulla natura stessa dell'oggetto che essi stessi sono.